Allora, caro Davide, ben ritrovato. Un po' di tempo non ci sentiamo, però so che tu sei sempre impegnato sul campo e quindi mi fa molto piacere che ci sia questa possibilità di fare un po' il punto della situazione. Fondazione Arca con Parco Natura Viva ha supportato la tua azione fondamentale di contrasto alla divinità di braconaggio che purtroppo sappiamo negli anni passati essere stata devastante in alcune delle regioni africane più importanti per la biodiversità con particolare rilievo al rinoceronte, ma non solo ovviamente. Quindi diciamo questa chiacchierata è il momento perfetto per fare un po' il punto della situazione soprattutto in epoca di pandemia, capire cosa è successo esattamente e condividere alcune delle tue impressioni di questo momento. Caro Cesare, anzitutto un buongiorno nuovamente a te, a tutto lo staff del Parco Natura Viva e della fondazione Arca che ci ha aiutato sia nel passato ed anche quest'anno, in quest'anno così difficile e particolare. Poi voglio portarti un dato piuttosto interessante. Nonostante la pandemia del Covid-19 abbia creato tantissimi problemi, debbo essere sincero, per quanto riguarda il braconaggio ad alto profilo, sulle specie ad alto profilo come i rinoceronte e gli elefanti, effettivamente l'impossibilità di trasferire, trasportare, trafugare parti di animale come le corde rinoceronte e le zane di elefante, proprio perché era tutto in lockdown, le compagniere internazionale, i voli erano bloccati e anche il numero di persone che si potevano muovere nel mondo era praticamente limitatissimo, questo ha fatto sì che il braconaggio su specie ad alto profilo sia crollato, ma crollato con numeri veri, molto realistici. La riunione che abbiamo fatto con i ranger del Kruger ci hanno parlato di un circa 55%, nelle riserve private c'è stato un crollo del 60%. Pensa che in Namibia, tra le riserve private dove lavoriamo, parliamo di dati che scendono al di sotto del 65%. Quindi dei risultati straordinari. Se il Covid ha portato tanto male, devo essere sincero, in questo caso il Covid ha rallentato, fermato addirittura più che dimezzato l'azione del bracconaggio, quello che noi normalmente definiamo il bracconaggio speculativo, ovvero l'uccisione di animali per la vendita di parti degli stessi. Se da questa parte siamo contenti, dall'altra parte abbiamo avuto un piccolo problema. Nel senso che l'altro tipo di bracconaggio, quello invece di sussistenza, pertanto quello che vede i bracconieri che trasformano gli animali in cibo, ovviamente per alimentarsi, è quadruplicato. Questo ovviamente è un po' un peccato perché era uno di quei bracconaggi che avevamo cercato e avevamo anche riusciti a in qualche modo calmierare nel passato, ma di fatto la mancanza di lavoro, soprattutto legato a quello che è un lavoro vicino a riserve private e parchi nazionali, ovvero il turismo e la conservazione, di fatto è scemato perché da febbraio ormai nessuno parte più per l'Africa, nessuno visita più i parchi nazionali, se non poche persone direttamente del paese, quindi più turismo regionale, e quindi questo ha creato una diseconomia impressionante, una quantità infinita di persone che hanno perso il lavoro e che quindi hanno bisogno di trovare dei sistemi alternativi, come la caccia tradizionale, ovviamente per alimentarsi e per dare da mangiare anche alle proprie famiglie. Ecco, dobbiamo ricordare chi ci segue che la filiera, diciamo così, di tutta l'industria del turismo anche nei paesi africani e legati alla fauna selvatica coinvolgeva circa 6 milioni di persone, quindi un'imponente, diciamo così, macchina organizzativa che si è quasi totalmente incepata con delle ripercussioni che possiamo solo vagamente immaginare, essere di gravità immane, anche perché i viaggi, adesso tu ci dirai che insomma ottobre mi pare si riaprano alcune delle nazioni africane, ma certamente la propensione ai viaggi da parte degli occidentali non sarà immediata, quindi dobbiamo immaginare una ripercussione che si protrarrà ancora per un po' di tempo. Senti Davide, innanzitutto ricordiamo sempre a chi ci segue che i rinoceronti sono uno delle specie un po' sentinella di quello che è lo stato di malessere della biodiversità, quella che molti hanno considerato la sesta estinzione di massa. Il rinoceronte tra l'altro ha suscita una reazione anche, diciamo così, di indignazione per noi che da tanto tempo operiamo nell'ambito della conservazione, perché il motivo per cui sta scomparendo è un motivo futile e quindi è un aggravante di questa questione. Sappiamo che questo corno purtroppo nelle aree cinesi, ma anche diciamo sud-est asiatiche ancora riceve delle attenzioni che sono ovviamente collegate sicuramente a una tradizione antica ma che oggi non ha più ragione di esistere, non ci sono prove scientifiche di nessun tipo di utilizzo del corno, diciamolo ancora una volta, che può sempre essere utile. Però purtroppo ancora i mandanti oggi sono giovani, rampanti a volte, i neocapitalisti, diciamo così, che vogliono ripercorrere magari le gesta di loro nonni o loro padri e avere in casa questo oggetto così ambito e sono disposti a pagare qualsiasi cifra e questo ha innescato quella maledizione per il rinoceronte che, diciamo anche questo, Davide, non può essere disinnescata semplicemente segando il corno di rinoceronte e rispedendolo in savana. Quel corno non è stato messo lì dalla sezione naturale per caso, è uno strumento che si è rivelato fondamentale per la difesa dei piccoli, fondamentale anche addirittura per il controllo degli ectoparassiti e quindi quelle femmine private del corno, come è stato tentato di fare inizialmente, hanno avuto una mortalità dei propri neonati molto più alta rispetto a quelle appunto con il corno integro. Quindi non è questa la soluzione. La soluzione, certamente, una delle soluzioni è quel contrasto anche militare che viene fatto sul campo di cui tu sei protagonista, ma diciamo anche subito che sei protagonista anche di un'attività di formazione delle, diciamo così, truppe locali, che è un altro aspetto su cui vorrei che ci dicessi qualcosa. Guarda, caro Cesare, del 2020 ti posso raccontare poco perché dobbiamo essere sinceri, siamo rimasti anche noi bloccati in Italia, ma nel 2019 abbiamo fatto cose straordinarie. Siamo stati all'interno del Parco Nazionale Kruger a fare formazione ai Ranger, addirittura questa attività nata addirittura nel 2018 ci ha portato effettivamente ad essere stati scelti per poter selezionare ed inserire proprio in una porzione del Parco Nazionale Kruger un'unità privata, la prima nella storia del Parco Nazionale che si occupa della tutela e della difesa di un territorio interno a quelli che sono di fatto i bordi del parco. Siamo stati presenti nel Parco Nazionale del Pilanesberg, un parco famosissimo, il secondo per numero di visitatori di tutto il Sudafrica, dove quando siamo arrivati lì cinque anni fa avevano già ucciso 72 rinoceronti e di fatto abbiamo portato il numerico a solo più 12 del 2019. Ed ovviamente non dimentichiamoci le attività che abbiamo svolto nelle riserve private e addirittura un'attività fondamentale proprio in Namibia, dove presso quattro riserve private stiamo facendo un'attività importantissima. Pensa che all'interno di queste riserve private abbiamo un numerico di rinoceronti neri davvero elevatissimo. Ricordiamo ovviamente a chi ci sta ascoltando che i rinoceronti neri in Namibia non appartengono alle riserve private, ma vengono date in concessione, in tutela, in custodia alle riserve private dal parco nazionale più importante che ovviamente il parco nazionale Etosha. Inoltre, proprio a cavallo fra il 2018 e il 2019, abbiamo realizzato un progetto importantissimo in una riserva privata in Botswana, Hansi, dove dopo essere stati contattati con una preghiera di intervento immediato, ho mandato giù il mio Stefano Borghi e Stefano Bertocchi e insieme hanno, diciamo così, arrestato insieme alla polizia locale due di questi bracconieri che avevano già fatto dei danni uccidendo dei rinoceronti e portando all'arresto di quasi una ventina di persone che di fatto ci hanno fatto capire quale collegamento, quale legame fortissimo ci sia fra il povero bracconiere che viene fondamentalmente assoldato per fare un determinato tipo di lavoro e poteri forti, addirittura banchieri e fino anche ad arrivare a delle ambasciate ovviamente cinese. Nel 2020 avremmo dovuto fare una serie di attività molto importanti una delle quali, mi fa piacere citartela, ad aprile dovevamo partire andando nella zona del Quasulu Natal, praticamente nel sud-est del Sudafrica, ad andare ad addestrare le unità speciali anti-bracconaggio, quelle dedicate proprio alla protezione dei rinoceronti in due parchi straordinari. Uno famoso ovviamente lo Shushue Unfolosi dal quale tantissimi rinoceronti sono stati presi per fare dei ripopolamenti in zone molto importanti. Ed ancora, e questo lo voglio ricordare, Isi Mangaliso che in qualche modo ha un legame anche con Verona perché Isi Mangaliso è un parco protetto e supportato all'UNESCO esattamente come la bellissima Arena di Verona molto vicino al Parco Natura Viva. Queste erano tutte le attività che avremmo dovuto fare nel 2020, le abbiamo solo di fatto messe in pausa perché a novembre ripartiremo, sarò di nuovo in Namibia, potremo ricominciare le nostre attività e il 2021, un po' come se fosse un anno di riscatto, ci vedrà iper presenti in tutti questi paesi, ricordiamoli Sudafrica, Namibia, Botswana e siano presenti anche in Kenya con un progetto veramente importante. Il circuito europeo di cui noi facciamo parte, ovviamente tutti i nostri animali compresi i due rinoceronti che oggi custodiamo con grande attenzione qui a Bussolengo sono riusciti, questo circuito, diciamo anche con il nostro piccolo contributo a raccogliere circa mezzo milione di euro in una campagna specialistica sui rinoceronti il nostro circuito raccoglieva fino a 2019 oltre 60 milioni di euro in una conservazione nei luoghi d'origine, quindi diciamo un ottimo risultato che alla luce di quello che è successo dà un'idea che non può essere solo il turismo a tenere in piedi la cultura della conservazione ma deve esserci un'articolata coalizione di forze che possano poi concorrere a quel risultato finale di cui tu hai appunto fatto cenno. Per quanto riguarda diciamo quel tesoretto di rinoceronti presenti nei bioparchi diciamo europei siamo a circa un migliaio di esemplari e questi sono importanti anche per quel fattore che a volte non è di immediata comprensione ma che questa pandemia ha messo ancora più in evidenza cioè quella diversità individuale dei genotipi che con popolazioni molto piccole si rischia di perdere in altre parole quando la popolazione diventa molto ristretta il rischio che diventino tutti fratelli se non gemelli è molto alto quindi questo fatto di conservare genotipi diversi che possono rispondere in modo diverso abbiamo visto che la pandemia insomma può colpire letalmente alcune persone altre addirittura essere solo asintomatiche senza neanche presentare alcun tipo di sintomo quindi diciamo ci fa capire che la diversità tra di noi tra individui è altrettanto importante della diciamo conservazione della specie nel suo complesso. Ecco diciamo oltre a questi temi della conservazione è utile l'hai sfiorato nel tuo intervento Davide cioè quello della sensibilizzazione pubblica di fatto anche il lavoro che stiamo facendo adesso ha questo fondamentale obiettivo di cercare di far capire che la difesa del rinoceronte in questo caso come emblema altro non è che il tentativo di mantenere quegli ecosistemi in equilibrio essendo poi la salute umana molto legata alla salute degli ecosistemi stessi. come ti sembra che ci sia stata diciamo così in Africa come come diciamo aumento della sensibilità ti sembra che ci sia un'evidenza che oggi anche le nuove generazioni di ragazzi africani capiscano il valore della fauna selvatica in sé o cosa pensi? Guarda Cesare una cosa che abbiamo notato e siamo rimasti veramente soddisfatti di questo è che le popolazioni locali se messe di fronte a una scelta fra avere un lavoro onesto che possa portare loro una buona economia oppure un lavoro difficile come il bracconiere sicuramente scelgono per empatia quello di fare una vita semplice. La cosa importante e questo lo ripeterò sempre è fare in modo che anche l'Occidente si renda conto che noi dobbiamo aiutarli concretamente e il modo per aiutarli è il più semplice possibile cioè dare un valore all'animale vivo che sia superiore al valore dell'animale morto. Come fai a fare una cosa del genere? Nel modo più semplice viaggiando, visitando i parchi nazionali, rimanendo, permanendo nelle riserve private. In questo modo possiamo dare un concetto vero, concreto, molto sensibile a quello che è l'attività legata alla conservazione. Se io posso avere qualcuno che ha un lavoro come il cameriere, la guida, il ranger o anche semplicemente la persona che porta magari le bibite tipo la Coca-Cola da un luogo a un altro, sto dando opportunità di lavoro e il lavoro dà la possibilità ai più giovani di studiare e di imparare, di migliorare le proprie competenze e quindi la propria posizione sociale. Facendo questo, andando nelle scuole, una delle attività che facciamo anche in Italia, tu sai bene che in questi giorni il rinoceronte che normalmente sta lì da voi, la statua del rinoceronte che si chiama Leo è in giro per l'Italia, siamo stati a Brescia, in un centro commerciale dove c'era tantissima gente, tantissimi bambini che sono venuti a farsi le classiche fotografie, tanti adolescenti con il classico selfie. questi bimbi facevano le domande, dicevano ma perché li uccidono ancora? E questo termine ancora, questa parola ancora a me è piaciuta tantissima perché di fatto è proprio l'idea che i bimbi dicano ma ancora adesso, nonostante tutto quello che abbiamo ancora lo fanno. Ebbene quello che noi abbiamo come occidentali, come europei soprattutto, ci ha insegnato che il vero valore della natura non risiede in quanti soldi posso fare con lei, ma risiede nel piacere degli occhi e nella passione del cuore, nel vedere un animale che esiste, che solca la terra praticamente molto prima dell'arrivo stesso dell'uomo che è stato portato quasi al rischio di estinzione per credenze, dicerie, stupidaggini che la scienza stessa ha demonizzato e soprattutto ha screditato con grande forza. Oggi vediamo che i giovani africani si sono un po' stufati di questa idea un po' delinquenziale del bracconaggio. Se un tempo il bracconieve portava un po' di soldi e fondi alla comunità, oggigiorno le persone si rendono conto che chi fa la guida, chi fa il regno, chi fa il conservazionista o in generale chi lavora nei parchi e nelle riserve è il vero eroe, è la vera persona che porterà il futuro nelle loro comunità per loro, per i loro fratellini e in generale per quello che è la comunità appunto delle popolazioni che vive intorno ai parchi e alle riserve naturali. Aggiungo questo che mi fa molto piacere, abbiamo notato proprio in questi giorni in questo momento Leo Rinoceronte si trova ad Ivrea, all'interno del Palazzo Municipio ci sono state oltre 200 visite negli ultimi due giorni di scolaresche che sono arrivate perché le maestre hanno voluto parlare del problema del bracconaggio, le maestre hanno voluto parlare di ambiente e uomo, perché ricordatevelo sempre che è impossibile scindere il concetto di problema fra uomo e animale dividendo i due elementi, bisogna metterli insieme, per trovare una soluzione a qualsiasi conflitto uomo-animale dobbiamo trovarla insieme, in comunione di intenti, gli uomini risolvono i problemi con gli animali, gli animali possono diventare uno strumento fondamentale per la vita degli uomini. Ricordiamocelo sempre, questo è importantissimo. Ecco, per dovere di cronaca, come dicono i giornalisti, è giusto informare che oltre all'Africa i rinoceronti sono presenti in India e nell'Indonesia e addirittura quelli indonesiani sono i più rari ormai rimasti al mondo, qui si parla di poche decine di esemplari, una settantina a Java e qualcosa di più a Sumatra. Quindi siamo in condizioni limiti. Ho avuto la personale esperienza di partecipare a un progetto nel Parco Nazionale del Kaziranga che è nel nord-est dell'India, dove un centro di riproduzione dei rinoceronti indiani che tra l'altro per estetica sono quelli più riconducibili alle specie arcaiche, hanno proprio una forma incredibilmente vicina a specie antichissime. Bene, questi sono stati addirittura bracconati all'interno del centro di riproduzione, quindi per farvi capire che la situazione grave non è soltanto nell'Africa, ma purtroppo abbraccia un po' tutto il mondo e i rinoceronti sono perseguitati perfino nei parchi zoologici dove vicino a Parigi è successo proprio un episodio di bracconaggio all'interno in tempi molto recenti. Quindi io credo che il lavoro che Davide e tutta la sua squadra di esperti d'Africa sta facendo è un lavoro incommiabile. Ci piace, abbiamo anche orgoglio un po' italiano che sia proprio un nostro ragazzo che diciamo così è lì con gli stivali sul campo, come si suol dire, ma aggiungerei un ultimo tassello alla nostra chiacchierata, che è questo, l'attività di ricerca, di ricerca scientifica, conosciamo sempre poco della fauna selvatica e quindi la ricerca scientifica quando serve per conservare le specie è una ricerca che deve aiutarci in questo senso e ci ha aiutato molto in questo senso. Oggi si sta sperimentando anche la fecondazione artificiale perché i rinoceronti soffrono anche di una bassa fertilità e forse questo può dare un aiuto e addirittura far tornare una dei genotipi che avevamo perso, che era questo mio ceronte bianco del nord, ormai ridotto all'estinzione, ma per fortuna un paio di femmine sono rimaste in uno zoo della Repubblica Ceca che hanno deciso di donare all'Africa, per cui sono tornate in Africa e lì si sta pensando appunto di sperimentando, non pensando, sperimentando la fecondazione artificiale per vedere se riusciremo ad avere ancora dei piccoli di rinoceronte bianco del nord. Un ultimo aspetto della ricerca interessante, per esempio, è sulla loro composizione sociale, perché per molti rinoceronti sono stati animali dipinti spesso come animali solitari, in cui si muovevano o si vedevano magari a volte individualmente. oggi la ricerca avanzata ha fatto capire che il rinoceronte bianco, in modo particolare, ma ci sono anche evidenze sul nero, ci sono comportamenti sociali molto più spinti di quanto si immaginasse e questa loro interazione sociale è anche collegata con la motilità degli spermatozoi, quindi di fatto è legata alla fecondità della specie, quindi se vengono separati in piccoli gruppi sono meno fecondi che non quando stanno assieme. Tanto per darvi alcuni flash sul frontiere della ricerca. Davide, io credo che, insomma, come ci siamo detti tante volte, insomma da parte nostra c'è l'idea di continuare a supportarti e sperare che appunto Fondazione Arca e Parco Natura Viva continuino a loro volta a sensibilizzare i visitatori proprio perché continuino in questa, che ahimè, devo dire, servirà sempre di più un aiuto esterno per riuscire a mantenere in piedi tutte quelle strutture di conservazione della fauna selvatica come sono state fino ad oggi. Cercheremo di lasciare ai nostri figli un mondo almeno meno peggiore di quello che abbiamo trovato. Cerchiamo di frenare la biodiversità, cerchiamo di seguire il famoso va de me come delle Nazioni Unite con la loro agenda 2030. Vuoi lasciare un messaggio finale a chi ci sta seguendo? Con grande piacere. Da una parte, Cesare, devo essere sincero, noi pensavamo che il turismo, rimanendo come, diciamo così, forza trainante principale, in qualche modo ci avrebbe aiutato. Con il Covid il turismo ha tolto di fatto i fondi ed ecco perché grazie proprio anche alla Fondazione Arca, al Parco Natura Viva e ai tanti supporter che ci hanno aiutato nell'ultimo periodo, siamo riusciti, nonostante ovviamente le difficoltà, a sostenere economicamente questa primissima unità anti-braconaggio privata dentro del Parco Nazionale Kruger, che a noi come associazione costa, pensate, 3.200 euro ogni mese. Ma ormai da tanto tempo riusciamo a sostenere questo costo proprio grazie a chi magari in questo momento ci sta ascoltando e ovviamente la Fondazione Arca che di fatto ha pagato metà di un mese completo per le nostre unità. L'altro messaggio che mi sento assolutamente di dare a tutti e di dire a tutti è quello che vorrei ricordarvi che la natura su questa terra non ci è stata regalata dai nostri genitori, ma ci è stata solo imprestata dai nostri figli perché in questo modo noi potevamo proteggerla, preservarla e consegnarla a loro esattamente come noi l'abbiamo trovata. Noi l'abbiamo trovata un po' danneggiata, l'abbiamo trovata con qualche problema, l'abbiamo trovata con dei disequilibri molto importanti. È proprio questo momento, è proprio questa la situazione e diciamo così il periodo e soprattutto siamo noi che dobbiamo prenderci la responsabilità di fare qualcosa di concreto per far sì che la natura possa essere mantenuta e riconsegnata ai nostri figli esattamente come dovrebbe essere. Io direi che con questo tuo appello possiamo chiudere questo è il nostro primo intervento, mi piacerebbe poter proseguire ovviamente ancora la nostra chiacchierata, ma io sono anche convinto che avremo modo di tornare sull'argomento quando le tue operazioni riprenderanno, per cui io credo che chi ci segue sia anche ansioso di capire quando tu tornerai in Africa che cosa troverai esattamente lì e quindi appena ci sarà l'occasione di un nostro incontro prossimo faremo di nuovo un piccolo rendiconto insomma delle attività svolte sapendo che credo che a tutti stia a cuore non solo la vita futura dei rinoceronti ma anche la voglia che queste nuove generazioni possano godere di una fauna selvatica che è garanzia di sopravvivenza sul nostro pianeta, non è semplicemente o soltanto diciamo così un aspetto estetico apprezzato da noi, ma è proprio un segno vitale del pianeta quindi facciamo in modo di preservarla, è un dovere ormai esteso in tutto il mondo e sappiamo quanto difficile è mantenere queste promesse per cui mi piace l'idea che il nostro Davide non fa conversazione ma fa molta azione sul campo quindi questo diciamo in qualche maniera assomiglia un po' alla nostra azione concreta anche noi ogni giorno dobbiamo diciamo far fronte a varie situazioni sapendo che questi sono tempi difficili per l'Africa ma in parte anche per chi come noi in Italia operiamo in questo settore io ringrazio molto Davide spero ci siano veramente insomma prossime occasioni per gli aggiornamenti ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito vi do appuntamento io spero insomma che in primavera si possa avere veramente qualche buona notizia chiudiamo Davide dicendo che i rinoceronti neri sono passati da 5.000 circa a 5.600 c'è stato un po' di incremento il lockdown ha fatto bene quindi qualche notizia di speranza insomma c'è quindi andiamo con un sorriso verso il futuro che potrà solo che essere migliore del presente attuale ed è proprio con questa notizia importante dobbiamo ricordarci che non possiamo abbassare la guardia non possiamo dimenticarci che questa lotta non è solamente africana perché se la lasciamo solo nelle loro mani probabilmente non riusciranno a vincere da soli dobbiamo essere concreti, veri, vicini e davvero volerli aiutare a casa loro per rendere la loro vita migliore grazie Davide, grazie a tutti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti